Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Lugano e sono qua per mostrarvi un appartamento di due mezzo locali fresco fresco di rinnovo Sono al quinto piano di uno stabile di sei piani, quindi penultimo piano L'appartamento ha una superficie totale di circa 42 metri quadri Sto facendo una breve panoramica E cominciamo subito Allora l'ingresso c'è un comodissimo aromato Accanto troviamo il bagno completo di box d'occia Un ampio box d'occia Il water Accanto abbiamo un lavabo con doppio cassetto e una grande specchiera Quindi accanto troviamo la camera Che ha una superficie di circa 14 metri quadri Con un suo balcone Balconcino invece di 4 metri quadri circa Che gode di una bella vista piacevole Sono abbastanza in alto sopra i vari palazzi Si intravede a filo anche un po' il lago Ma sicuramente il punto forte non è tanto la vista ma davvero la posizione Perché siamo in pieno centro lugano Ecco qua l'ingresso Adiacente all'ingresso si trova la cucina Cucina nuovissima con un piano cottura a induzione Sottostante forno ad aria calda Una comodissima lavastoviglia E dopodiché abbiamo la colonna frigorifero Anzi questo è il congelatore a mezza altezza E superiore si trova il frigorifero Cucina design moderno La cucina poi si affaccia anche sul salotto Vedete c'è questa parete aperta E andiamo a scoprirlo Questo salotto è di circa 17 metri quadri Sicuramente è l'appartamento ideale per una coppia O un single che lavora qui in centro Vuole usufruire di tutte le comodità e i servizi che Lugano Centro offre Quindi abbiamo l'uscita sul balcone Quello più grande di circa 8 metri quadri E anche da qua chiaramente godiamo di una bella vista aperta Abbiamo montagna, città E ancora da quella parte il lago Venone è tutto Vi aspettiamo per mostrarvi personalmente Questo carissimo appartamento di due mezzo locali Lugano Centro Grazie a tutti Ti affitto